Inizia nel migliore dei modi il 2014 in casa Visse, battendo l'Olimpia agnonese che dimostra di valere decisamente di più di quanto non dica la classifica, come sottolinea Mr. Urbano. Siamo andati in svantaggio su una palla da fermo che potevamo tranquillamente evitare sulla nostra disattenzione, abbiamo avuto l'opportunità con il calcio di rigore per poterla pareggiare, non ci siamo riusciti perché l'abbiamo sbagliato, però globalmente l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto, ha fatto una buona partita. Il giorno di ritorno sarà tutt'altro campionato? Io me lo auguro per noi che dobbiamo risalire alla china, dobbiamo riuscire ad ottenere la salvezza possibilmente evitando i play-out, se poi dovessimo ottenerla anche attraverso i play-out, ma la cosa importante è rimanere in categoria. Esposito il valore aggiunto? Sicuramente, è un giocatore per noi che è la ciliegina sulla torta, è un giocatore che può darci veramente, come ha dimostrato in queste due partite, può farci fare il salto di qualità, però intorno ad Esposito deve crescere tutta la squadra. Si comincia con due angoli calciati da destra da Bugaro, espulso nel finale per doppia munizione. La difesa Granata si è chiusa sempre nel migliore dei modi. Vi spesero che sin dalle battute iniziali ha cercato di comandare il gioco, ospiti che si fanno notare al quinto con Vade, il quale cerca di innescare Esposito sulla corsia di sinistra. L'ex Giuliese controlla la sfera, ma appena prova ad entrare in area di rigore viene fermato dalla difesa bianco-rossa già schierata. Insiste l'Olimpia agnonese sesto con Esposito molto attivo, la difesa di casa si rifugia in calcio d'angolo. Al quindicesimo entra di scena Ridolfi che delizia il pubblico con una discesa vertiginosa, ma non concretizza come vorrebbe. Al diciannovesimo Chicco impegna Biasella in una parata a terra, manovra prolungata della visse sulla corsia di destra, pallinare ventiquattresimo. Ridolfi prova in acrobazia la conclusione, ma non inquadra la porta. Chicco ancora protagonista al ventisesimo, fermato al limite dell'area di rigore in sospetta posizione di fuori gioco. Il pubblico di fede bianco-rossa contesta la decisione del direttore di gara. Calcio di punizione ancora al trentesimo in favore della visse, calcio a bugaro, guadagnando soltanto un calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora, trentunesimo, strappa l'applauso a Ridolfi con una conclusione dalla sinistra, para Biasella. Trentaduesimo, punizione in favore dell'Olimpia agnonese, dai venticinque metri centrale. Vade calcia, ma non ha successo. Ci prova due minuti dopo Costantino, il quale impegna Biasella ancora una volta, attento nel chiudere ogni tentativo da parte Vissina. Si becca il giallo di Tullio al trentacinquesimo, fallo nei confronti di Ridolfi. Affonda trentanovesimo, ancora Ridolfi, appena dentro l'area ospite, prova la conclusione, pallone che supera la traversa, finendo la sua corsa sul fondo. Quarantatreesimo, bella la risposta di Fogliera sulla conclusione di Di Benedetto. Ancora una punizione in favore dell'Olimpia, quarantacinquesimo, calcia di Lullo, la difesa di casa. Ancora una volta si chiude al meglio. In avvio di ripresa ci prova subito la Viss a forzare ritmi, ma guadagna solo calci di punizione. Al nono colpo di testa vincente di Giovanni Dominici, che ha postato sul secondo palo, infila Biasella, spedendo la sfera, dove il numero uno ospite non può arrivare. Conclusione, strappa applausi del Vissino Martini al sedicesimo. Diciassettesimo, affonda esposito, si procura un calcio di rigore, peraltro contestato, Fogliera mette tutti d'accordo, negando il gol a Di Benedetto. La gioia di Alex Fogliera. Diciamo che è andata bene oggi, finalmente ho parato il rigore anche in casa, dopo averlo parato a fermo. Sono stato contento, ha contato qualcosa, mi ha fatto una buona partita, anche se poi nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' le loro palle inattive, loro buttavano solo palla su, dopo facevi fatica, no? Dovevamo chiuderla prima, non l'abbiamo chiusa, abbiamo sofferto fino alla fine, però adesso sono stati bravi a tenere il risultato. Il 2014 è iniziato con una vittoria importante, soprattutto con una classifica che fa sorridere. Sì, di questo siamo contenti, ma secondo me la classifica dobbiamo guardarla alla fine, dobbiamo pensare partita dopo partita e provarle a vincere tutte. Poi guardiamo alla fine dove siamo, tiriamo una riga e vediamo, l'anno scorso è andata bene, quest'anno proviamo a migliorare l'anno scorso. Ventesimo, Ridolfi da destra, impegna Biasella, visse che non molla, anzi cerca con tutte le sue risorse a disposizione la via della rete. Ventisettesimo, Costantino ad un passo dal gol, potrebbe essere il raddoppio che non arriva. Trentesimo, assiste dei Ridolfi per Romiccioli, assestato nel cuore dell'area di rigore dell'Olimpia, colpo di testa, pallone alto sopra la traversa, peccato. Mister Urbano, poco dopo la mezz'ora, richiama in panca di nullo per far posto ad Orlando, poco dopo, trentasettesimo, lascia il campo Ridolfi, applausi per lui. I due tecnici danno vita nel finale al balzer delle sostituzioni, che poco mutano gli assetti tattici. La soddisfazione di Beppe Magi, tecnico della Vista. Siamo contenti di tre punti d'oro, siamo ripartiti col piede giusto, una buona partita, anche se i ritmi erano un pochino lenti, però ce l'aspettavamo, la sosta, i carichi di lavoro. Ci hanno portato a questo. Non è arrivato il gol del Radu, il gol della certezza, però la vittoria non è mancata. No, dal mio punto di vista è meritata, abbiamo fatto bene, abbiamo avuto pazienza, ci aspettavamo una squadra arroccata in difesa, che badava il sodo, perché in quella posizione di classifica a volte puoi anche giocare male o meno bene, però ti servono i punti e quindi loro puntavano esclusivamente a difendersi e a ripartire in contropiede e hanno avuto alcune situazioni dove potevano farci male se sarebbe complicata ancora di più. Si respira aria di play-off? Si respira aria di alta classifica e non guasta, siamo contenti, vorremmo considerare i play-off come un sogno da realizzare, però domenica dopo domenica. Oggi è andata bene, Foyera ha parato un rigore e quindi ci ha portato aiuto in questa situazione, giusto sottolinearlo, perché credo che i risultati passano attraverso un po' tutti i giocatori, vengono sempre lodati soprattutto gli attaccanti o chi fa gol. Oggi ha avuto questa ribalta Foyera, sono contento per lui, stiamo lavorando bene e andiamo avanti così.